Promette Futuro incarna l'ideale dell'industria 4.0 e il nuovo stabilimento Whirlpool di Melano nelle Marche, consacrandosi così ad essere il nuovo polo d'avanguardia tra Europa, Medio Oriente ed Africa nella produzione di piani di cottura ad altissima gamma. Apriamo una delle nostre fabbriche del futuro, per cui noi abbiamo preso l'opportunità di questi investimenti per riassettare il nostro assetto industriale per comunque creare le fabbriche del futuro e i prodotti del futuro e Melano è la prima fabbrica che guarda il futuro. Una pratica da portare a conoscenza di tante imprese che sono in difficoltà e che pensano di dover delocalizzare per recuperare produttività, per recuperare redditività. Il piano industriale firmato dal gruppo con le istituzioni nazionali e locali e con le organizzazioni sindacali nel luglio 2015 ha permesso in Italia l'investimento di 220 milioni di euro, già effettuati in processi, prodotti, ricerca e sviluppo su un totale di 500 previsti entro il 2018. A Melano tra 2016 e 2017 sono stati investiti 21 milioni, cifre significative che accompagnano obiettivi importanti come la produzione di 2 milioni di pezzi l'anno, realizzati attraverso 14 linee di assemblaggio. L'operazione ha consentito l'impiego di oltre 700 dipendenti, un segnale di fiducia per l'intera comunità che ha conosciuto i peggiori effetti della crisi economica e dell'emergenza sismica. Ora c'è un progetto, c'è una realtà solida e c'è una prospettiva, è quello che oggi celebriamo, io credo.